Signori, bentornati, siamo qui con l'ultimo video e prima di salvare, cioè salveremo e poi faremo una cosa che si chiama arrenditi. Ci arrendiamo semplicemente, sconfitta mi dirà lui, oh no, ma ora potremo rivivere i progressi della Germania, la Polonia, tranquilli non l'abbiamo perso prima che iniziate ad aggredirmi, la ciecoslovacchia. Passa il tempo e noi programmiamo un attacco, attacchiamo in Lussemburgo, poi la Francia, una guerra lunghissima che gira e si rigira, che continua anche in Africa, non sto toccando niente, e che finisce poi, vediamo, qui, con un solo territorio annesso. Ma la guerra è lontana ancora dal finire, perché la Francia qui conquista qualche territorio e noi prendiamo gli stati baltici. E poi si parte all'attacco della Francia un'altra volta, questa è la volta buona, in teoria. Perché gira e si rigira, poi l'Italia ci aiuta, noi li chiudiamo e la guerra finisce con i territori. Addio Paesi Bassi. Mentre qui c'è un momento di riassemblaggio truppe, la spartizione della... come si chiama? Ah, lì mentre stiamo prendendo la Norvegia. La Svizzera prima. Le colonie in Africa che adesso compariranno in visuale. Si può aumentare un po' la velocità, vero? Sì. La sotto mentre combattono, l'Italia. La Svezia, velocemente. Ora toccherà la cara amica Finlandia che però sarà una guerra strana. Dov'è? Eccola in arrivo. Sì, una guerra che sembra non avere sconfitta e vittoria. E poi l'Unione Sovietica. Subito una grande invasione e la prima pace. Seccato dell'onta, ma desideroso di rivolta. Seconda invasione, seconda pace. Poi sì, qui iniziava a diventare veramente imbarazzante, quindi... Mentre la sotto stanno combattendo. Terza invasione, terza pace. E sono... Penso sì, ci sarà l'ultimo perché mancano territori in questo punto qua. E pace. Indietro. Ancora un altro turno, lo prometto, sì. E infatti il Lebesbrum è ancora qua. Voilà. Adesso concluderemo l'episodio nel giusto modo. Concluderemo la serie nel giusto modo. Vorrei rilasciare un vassallo, infatti. Però mi spaventa rilasciare i vassalli che non devono essere lasciati. E allora come fare? Vabbè, qui non ce n'è sicuro. Qui nemmeno. Alla fine i vassalli sarebbero soltanto nella Francia di Vichy. E siccome se creerò un vassallo e poi mi servono dei territori, io mi preoccupo. Possiamo però farlo perché tanto ormai siamo in Lebesbrum. Quindi rilascio un vassallo. E se facciamo? Scegli civiltà. Si chiama con la G. Giù. Governo, governo, governo di Vichy. Gli mettiamo capitale. A Dunkirk. No, a Bruxelles. Piazza capitale. E diamogli le province adesso. Praticamente ci prenderemo qua tutti questi territori. Anzi, deselezioniamo tutto e mettiamogli la capitale. Anzi, prima mettiamo gli territori. Quindi questi qua glieli possiamo dare. Complesa Lige. E adesso tu vivrai come nostro vassallo. Piazza capitale. Rilascio un vassallo. Governo di Vichy. E' finalmente nato. Ma noi saremo sempre l'Ebesbrum. Poi. Rilascierei tutti i vassalli che non mi servono. O almeno se ce ne sono. Non più, va. Penso era l'unico. Poi possiamo rilasciare goliardicamente. Come si chiama qua? Scegli civiltà. Possiamo rilasciare una Slovenia. Ma così tanto per. Dove, dove, dove. Ce ne sono tante con la Slovenia. Capitale. Questi due territori. Piazziamo la capitale qua. Rilascio un vassallo. E poi abbiamo promesso alla Slovacchia di avere un vassallo. Quindi appena troviamo Bratislava. Rilascio un vassallo. E gli diamo questi territori qua. Che finiscono così. Piazziamo la capitale qua. Scegli civiltà. Sempre con la S. Ora ci sarà tanto da scorrere. Non troppo però. Piazza capitale. Rilascio un vassallo. E la Slovacchia c'è pure. E poi un regno baltico no. Ah, poi vabbè. Qualche territorio che abbiamo ingiustamente bullizzato. Quindi direi. Rilascio l'ultimo vassallo. Rilascio un vassallo. La Sbizzera. Governo di Vichy. Poi. Siccome comunque li voglio rilasciare per correttezza. Perché comunque. Fanno pur. Mi dispiace lasciarli così. Facciamo la Danimarca. Se c'è ancora. No. Ha paura. Non c'è più. Scegli civiltà con la D. Danimarca. Ah, ma la Danimarca esiste ancora, vero? Quindi che non abbiamo niente da rilasciare, giusto? E per il resto rilasciata la Svizzera. Resta soltanto l'Istria. Che voglio rilasciare. Rilascio un vassallo. E come lo chiamiamo? Facciamo così, dai. Ironicamente. Non so se è bello o no. Oppure se è assensato o no. Ma scegli civiltà. Con la S. E lo dedico alla mia regione, dai. Anche se non c'entra niente dove è messa. Io gliela voglio mettere. Perché così c'è anche un pochino di mio. In questa... In questa serie. Quindi questi sono i suoi territori. Sì, capitale Mosca. No. Capitale qua. Ah, Mossa, ok. Rilascio un vassallo. Signori, la Sicilia è ufficialmente nata come vassallo. E per il resto direi... Ah, in Africa, vabbè no. In Africa no. In Africa creeremo il nostro impero futuro. Se un giorno continuerà. E allora signori, avendo rilasciato Uno, due, tre, quattro e cinque vassalli Direi che ci possiamo fermare La serie è finita. Come avete visto, salverò per l'ultima volta Ho creato tanti vassalli Ho annesso tanti territori Partendo dalla Germania abbiamo creato lo spazio vitale E poi ho concesso qualche piccola concessione Alla Sicilia, alla Slovenia, alla Svizzera Perché secondo me, comunque, anche se queste truppe Non... Cioè, sono nostre Sono cose nostre Dovremmo comunque riconoscergli Un'esistenza Tramite vassallo Perché comunque me l'avete scritto nei commenti E quindi, dai No, no Un altro vassallo Un altro vassallo Dai, forse siamo In una cosa di vassallaggio E mettiamogli l'ultimo, va Scegli civiltà Dovrebbe essere con la A Con la C, voglio dire Forse no però Carelia Pennello E gli diamo tutti questi territori qua Questa sarà la Carelia Che completeremo così Capitale Boh, gliela piazziamo qua E poi gli diamo anche quest'isoletta E rilasciamo l'ultimo vassallo probabilmente Adesso esiste anche lei E va bene ragazzi Per il resto Basta perché Non vorrei perdere tutto ciò che ho costruito Gli altri vassalli non meritano di esistere Quindi direi che Dalla serie di Road to Lebesbrum Che non esisterà più Perché se un giorno deciderete Che ripartirà Si chiamerà Ripartiamo Dalle Lebesbrum Quindi mi raccomando Continuate a supportare Perché comunque Uscirà un'altra serie Successiva a questa Con Napoleone E quindi Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Mettete tanti mi piace E dal nostro Lebesbrum Per un'ultima volta Addio O almeno Arrivederci E Grazie.